ben ritrovati con l'ennesimo appuntamento di 45 giri che torna in uno status quasi naturale in questo periodo perché oggi parleremo di politica lo faremo con un giovane politico candidato alle prossime elezioni regionali che saluto e ringrazio sandro mariani ben benvenuto nei nostri studi benvenuto soprattutto in questa rubrica che come sai credo è sempre classificata da un titolo il titolo che noi abbiamo dato a questo incontro è un naturale percorso politico perché credo che il tuo iscritto nel pd sia un sia stato un naturale percorso politico che non vorrei ripercorrere io ma che mi piacerebbe ripercorressi tu ringrazio se il titolo è azzeccatissimo infatti perché in questi anni pur essendo giovane avendo 31 anni ho avuto una lunga esperienza negli ambienti politici e parapolitici come appunto dicevo prima ho cominciato durante il liceo dove fu eletto rappresentante liceo classico poi da lì all'università consigliere d'amministrazione dopo quell'esperienza c'è stato il vero ingresso in politica da parte mia con degli amici con un gruppo di amici e da lì appunto mi sono iscritto al partito democratico nel 2006 nel 2006 sono iscritto il partito democratico e iniziato un percorso dentro questo grande partito plurale con le diversità le difficoltà che il partito democratico aveva in parte anche oggi che però piano piano vanno migliorando oggi con con renzi lo vediamo le cose come dire assumono una forma diversa un aspetto diverso di questo parli magari un po si è e quindi nel partito democratico c'è stato questo percorso che era anche stimolante no il fatto che ci fosse dentro ci fossero dentro questo partito le diverse anime le diverse sensibilità era anche uno stimolo per un giovane che voleva fare politica si però queste cose o le hai dentro oppure difficilmente le acquisisci perché si parla tanto di giovani sempre più lontani dalla politica mentre tu sei un giovane che hai trovato stimolo addirittura da questo tipo di politica questo è un po anomalo o no beh questo sì e certamente è chiaro che io mi definisco un combattente uno che ama come dire le le sfide penso che ci debba essere appunto un'attitudine anche personale un'inclinazione anche personale a raccogliere le sfide è certamente il percorso non è stato semplice e non lo è tuttora perché poi si parla tanto di giovani ma in realtà poi largo e giovani come dire questa frase spesso preannuncia dei genocidi più nel partito democratico non hanno mai avuto la strada in qualche maniera ostruita dalla crescita di un ragazzo che voleva affermarsi in politica si all'inizio c'è stato proprio un atteggiamento ostile perché al di là delle belle parole nell'assemblea pubblica e poi nelle segrete stanze naturalmente si sa un po come nella vita ma non è che mi stupisce questo io vengo dalla strada lo ripeto quindi so come funziona come come quali sono le regole della vita e quindi di conseguenza nelle segrete stanze invece hanno cercato sempre di ma anche fisiologicamente di cui lo capisco pure fa parte un po della natura umana di cercare di tamponare di evitare che ci sia che ci potesse essere una crescita esponenziale notevole da parte di un gruppo di giovani su questo noi penso che abbiamo avuto un intuito a differenza di altri dentro il partito c'è quello di fare gruppo noi che con un patto generazionale noi giovani noi giovani dell'epoca un impatto generazionale tra i più giovani appunto lavorando su una scacchiera tra virgolette uso questo termine una scacchiera provinciale quindi perché un genere un giovane tente tenda tenta più che altro di fare un percorso all'interno del proprio comune non del proprio ambiente da proprio della propria casa invece ti sei aperto al territorio noi siamo aperti al territorio la ragionando da subito sul livello provinciale perché l'intuito da parte di molti amici fu proprio quello quello di dire o si ragiona su i 47 comuni oppure sei fuori gioco sempre comunque e devo dire che un mio amico che poi una delle persone più attive dentro il nostro gruppo ebbe un'intuizione geniale che oggi appunto tutti quanti gli riconoscono quella di aprirsi al territorio quello di aprirsi al territorio quello di lavorare appunto in gruppo su tutti i territori dopodiché appunto ci fu l'ingresso nel partito democratico e decidemmo come gruppo giovanile di correre per la segreteria provinciale lì c'era robert verrocchio candidato da una parte marco citerei e decidemmo di scendere in campo appunto con la mia figura per la corsa la segretaria provinciale e fu un bel risultato il tuo adesso al di là del fatto che verrocchio divenne segretario però ottenesti un gran risultato un gran risultato è stupì molti il fatto che in territori come cellino attanasio come crognaleto come piccoli comuni della montagna e anche terramo stessa come giovane un giovane aveva ottenuto tanti consensi che il lavoro di altri giovani e quindi questo fu un risultato appunto che ci diede la carica e abbiamo continuato a lavorare del giorno dopo per per l'altro appuntamento l'appuntamento che poi ha visto come come principale attore gabriele minosse e lì a quel punto il partito non ha potuto che prendere atto di una realtà che si era oramai consolidata nel territorio apertura a sandro mariani che nel 2008 viene eletto come primo eletto a campli e oggi ricopre il ruolo di assessore comincia ufficialmente la tua carriera politica che oramai va avanti da 5 6 anni se lì è stata un'esperienza molto formativa molto molto bella perché il punto nel luogo dove io ero cresciuto ho avuto la legittimazione da parte della mia gente che appunto con un voto plebiscitario mi riconobbe mi riconobbe appunto il lavoro fatto sul territorio e mi ha dato la possibilità di sedere appunto nel nel consiglio comunale di campli con il ruolo di assessore e questo è stato appunto uno stimolo ulteriore ad andare avanti è proprio il calore della gente nel mio posto di quelli che ho incontrato di quelli che hanno condiviso un percorso con me con gli altri ragazzi che ci hanno poi portato come dire sempre a dire puntiamo un po più in là cerchiamo di raccogliere le sfide ma non solo le sfide politiche ma anche le sfide che oggi questo territorio deve purtroppo raccogliere c'è quella della crisi quella della crisi che ormai è un qualcosa che ha assunto dimensioni catastrofiche nella nostra provincia quello del mondo del sociale la grave crisi che vive il mondo del sociale e quindi tutte le problematiche connesse annesse a queste a queste appunto che prima citavo come il mondo delle imprese che ormai sono strangolate dal ovviamente analizzeremo anche il tema dei temi che è il lavoro ma voglio fare un passo indietro perché non più tardi di ieri seduto al tuo posto c'era un medico un ginecologo che attende risposte concrete proprio dal comune di campi parlo del dottor roberto pedrella e di un centro oncologico che dovrebbe sorgere se non ricordo male nella zona di pagannoni quindi non molto distante dalla nostra dalla nostra sede si farà o no si si farà ci sono i tempi tecnici della pubblicazione e quindi abbia stata fatta una variante di progetto approvata in consiglio comunale quindi ci sono i tempi tecnici entro i quali appunto ci sono le varie osservazioni se ci saranno insomma ma è compatto campi o c'è una maggioranza che vuole questo insediamento è un'opposizione che non prende posizione ma io penso che più che altro c'è compattezza da parte naturalmente della cittadinanza che capisce che è una grande opportunità una grande chance che ha il comune di campi sia sotto il profilo occupazionale sia sotto il profilo dello sviluppo territoriale è innegabile questo tra l'altro interamente costruito verrà interamente costruito con fondi privati soldi privati cioè il comune di campi ha solo di che giovarne da questa da questo intervento e dall'altra parte c'è stato durante il consiglio comunale un battibecco con con la minoranza ma penso che sia più un gioco tra le parti che in realtà una reale sei fiducioso si farà sì sono fiducioso questa è una risposta al territorio e non è solo una risposta per campi anzi è la nostra bandiera questo centro è la nostra bandiera si può considerare con un po fiore all'occhiello di questo operato da parte della vostra amministrazione è sicuramente il fiore all'occhiello e penso che è una cosa di cui oggi la giunta giovanni e deve andare come dire fiera è proprio questa cioè il fatto di aver portato una realtà di questo tipo nel comune di campi mi viene da pensare come mai sia stato campi a sposare subito questa iniziativa quando lo stesso pedrella ci diceva insomma che in comuni limitrofi non aveva trovato la stessa predisposizione ma non so se è una situazione di natura politica o di scarsa sensibilità all'insediamento sinceramente mi rimane difficile capirlo però così è ma questo mi permetto di dare una risposta perché ha trovato una giunta di persone competenti di persone attente anche giovani quindi anche un nuovo modo di fare politica un nuovo modo di vedere la cosa la cosa pubblica e quindi da subito abbiamo capito che è una grande opportunità ci siamo attivati tutti per cercare appunto di far rimanere una realtà di questo tipo nel nostro territorio pensi con un amministratore debba fare questo e quindi su questo ha trovato disponibilità calore terreno fertile dottor petrella quindi ha deciso poi appunto di andare avanti in quel territorio anche perché abbiamo questo dobbiamo sottolineare in quelle in quel territorio il territorio della in quella frazione di pagannoni abbiamo delle condizioni ideali che sono agevoli cioè vuoi sia appunto la la vicinanza dell'esp3 quindi la viabilità che è lì a un passo ma anche l'area la location anche l'area la location pianeggiante quindi quindi tutte le condizioni ci sono una serie di condizioni che hanno poi permesso insieme appunto la disponibilità la capacità dell'amministrazione di di far sì che appunto petrella scegliesse quel sito senti adesso faccio un passo indietro tornando delle dichiarazioni che sono tue ma che avrebbero costituito elemento di domanda si parla ancora di un partito abbastanza diversificato il vostro il partito democratico io non so se questa diversificazione tenda abbia un trend in crescita o meno e non parlo di crescita elettorale ma parlo di crescita culturale il partito democratico è in evoluzione culturalmente parlando e se sì che peso a renzi in questa evoluzione io penso che il partito è in evoluzione penso che questo lo si nota lo si denota soprattutto negli ultimi mesi renzi ha una grossa bisogna dare un grosso riconoscimento a renzi per quello che è stato fatto perché sicuramente ha ridato la speranza che può sembrare un qualcosa di come dire un aspetto superficiale un elemento secondario invece è l'ingrediente principale oggi ha ridato entusiasmo speranza ai cittadini ed è fondamentale questo perché è un periodo lo diciamo spesso quindi sarò anche ripetitivo dove la politica ha disamorato la gente ha allontanato la gente e poi molti decidono di andare a votare altri decidono appunto di dare fiducia al movimento 5 stelle e appunto perché la gente non si appassiona più ai partiti ai personaggi che hanno ruoli nei partiti commentavo l'altro giorno un po di cittadini in piazza appunto oggi la gente non si stupisce più nessuno dei cambi di casacca una volta appunto c'era si dava del clamoroso del passaggio del clamoroso poi si istituivano tribunali in pubblica piazza per questo oggi invece è quasi naturale che che qualcuno un po' come nel calcio si cambia sacca facilmente qualcuno continua a baciare la maglia però il giorno dopo dimentica di averlo fatto insomma è un po la vita che oggi è così è un malcostume che la gente ormai ha percepito e che non fa bene a nessuno soprattutto a noi più giovani che poi paghiamo le pene dei padri diciamo in questo caso invece sul piano delle scelte dei candidati il percorso del partito democratico provinciale credo sia credi sia stato lineare coerente e sia prodato alle giuste scelte qualcuno dice che i candidati sono stati scelti per area territoriale io su questo ragionamento questo non l'ho sposato perché io mi reputo un candidato dell'intera provincia perché chi si candida in questo momento a concorrere per questa sfida regionale deve rappresentare tutto il suo collegio c'è la provincia di teramo parlare di aree territoriali alla fine come dire mi fa sorridere perché in passato ci sono stati rappresentanti della vallata del vomano della val vibrata della costa di teramo della montagna e e poi alla fine la gente quando ci parli da anche ti dà anche atto del fatto che in realtà non vuol dire che essere un territorio vuol dire fare bene a quel territorio cioè alla fine se c'è una persona capace competente che ha voglia di fare politica io lo vado a prendere anche anche fuori provincia anche perché a questo punto allora non dovevamo neanche accettare che il presidente della regione venisse da pescara no questo quindi su questo io penso che il partito democratico sta facendo un lavoro anche di questo tipo nel dire al di là delle aree geografiche i candidati rappresentano l'intera provincia no con le loro specificità e le loro peculiarità il percorso fatto all'interno del partito un percorso ragionato tra i dirigenti di partito anche perché questa non è una sfida semplice quindi di conseguenza non è che i candidati si trovano in maniera agevole no che è una sfida molto dura impegnativa che cambia anche la vita dei soggetti che concorrono quindi questo bisogna dirlo che spesso la gente all'esterno vede come dire una superficialità dice la candidatura no le regionali si è candidato in realtà poi ti stravolge la vita no è una scelta di vita che uno fa e quindi di conseguenza un partito serie rispetto agli uomini rispetto agli uomini quindi prima di coinvolgere qualcuno all'interno delle liste il partito il segretario provinciale che deve essere appunto un padre di famiglia deve appunto in maniera responsabile spiegare al candidato a che cosa va incontro io voglio restare invece un po sul territorio se tu sei d'accordo perché poi è anche vero che se nel centro-sinistra comunque si è discusso si è esaminato sono state fatte delle scelte pare sembrerebbe che nel centro-destra e questo conferma quanto difficile sia comporre una lista e fare le scelte giuste qualche problema questo territorio l'abbia nel senso che se Elice Romandini si candiderà a sindaco sarebbe stato lui il candidato naturale forte di questo territorio è un motivo per crederci ancora di più questo o non c'entra nulla con quel che sarà la vostra campagna elettorale? io penso che a parte che appunto nel io conosco quello che accade a casa mia e quindi posso fare un'analisi di quello che sta succedendo adesso nel PD nel PDL penso che appunto vedo che si stanno appunto adoperando a comporre le liste sono convinto che poi verranno spalmati su tutti i territori perché è naturale che sia così riguardo alle candidature appunto del centro-destra quelle forti o meno forti io questo adesso non lo riesco a valutare se appunto sei concentrato solo a casa tua sono concentrato a me piace parlare più di noi stessi che degli altri perché alla fine come dire mi piace proporre quello che noi pensiamo e quello che noi facciamo le decisioni a casa degli altri lascia agli altri però io penso che in questo momento il PD ha l'entusiasmo per tornare al discorso di prima ha l'entusiasmo che ha Renzi, ha la voglia di fare che ha Renzi e di conseguenza questo la gente un po' lo percepisce di là ci sono dei problemi e questi appunto sono evidenti sono evidenti però vediamo che è ancora lunga poi si dice che in politica un giorno e un anno vero, un giorno e un anno, è uno degli slogan più atavici che regna in politica c'è una fase comunque questa nella quale ovviamente si cominciano un po' a delineare i quadri e questo territorio ha dei candidati, a te non piacerà però ha dei candidati importanti, forti importante è la tua candidatura, importante è la candidatura del sindaco di Torano Nuovo Dino Pepe in questo contesto due compagni di partito come riescono a mettersi in mostra meglio rispetto all'altro su chi contano? Contano sulle strutture di partito, contano sulle alleanze forti contano sulla credibilità personale, sulla collaborazione che un territorio può restituire politicamente parlando alla candidatura, sulla tua giovane età, su cos'altro? Accertamento, tra l'altro appunto con gli altri colleghi, ce ne sono anche altri candidati in lista col PD ce ne saranno degli altri, siamo una squadra, questo l'ho detto più volte ecco questo concetto mi piacerebbe affrontare siamo una squadra quindi di conseguenza la vittoria dell'uno dell'altro è la vittoria del partito e di tutto il territorio, questo va sottolineato, che abbiamo sempre collaborato insieme e continueremo a farlo perché non vorrei incorrere in quell'errore che si è fatto quando votammo in provincia dove praticamente tutti corremono a bloccare quelli del mio partito, i candidati nella lista civica mi ricordo un po' di amici della Val Vibrata che io volevo candidare sulla base di un rispetto personale che aveva questa gente per me quindi le avevo contattate, ero un ragazzo quindi volevano impegnarsi in questo progetto anche mossi da questo spirito entusiasmo giovane che io manifestavo e in realtà poi venivano contattati da quelli delle candidati nelle liste ufficiali dicendo non ti candidari per paura che ci fosse la defezione di qualche consenso morale della favola per farla breve, non abbiamo vinto e quindi tutti a casa quindi quello che adesso ci preme è fare liste forti sono convinto appunto che il mio amico Dino Pepe è un ottimo elemento in lista il mio amico Luciano Monticelli altrettanto il mio amico Gloriano Lanciotti è altrettanto forte quindi è una bella lista, una lista non che deve aggiustare la candidatura di qualcuno e questo è l'errore spesso che si è fatto in passato dove c'erano 4-5 candidati deboli e 2 forti era palese la geografia già del giorno dopo perché siamo convinti che siamo una squadra e quindi insieme giocheremo le nostre partite e dobbiamo dare questa impressione la dobbiamo far uscire all'esterno questa cosa che noi viviamo all'interno dopodiché sulla Val Vibrata come dicevi prima su che cosa ognuno di noi fa affidamento i vari candidati, anche gli altri io penso che appunto in certi territori qualcuno ha più le strutture di partito vuoi perché in quel territorio ci vive e quindi è anche giusto che sia così qui c'è Dino appunto che c'è il consigliere regionale Peppino Di Luca che appunto lo sostiene quindi ha anche una struttura di partito con il sindaco di Controguerra ha una struttura di partito importante che lo sostiene ed è fondamentale che ci sia questo aspetto adesso qui poi c'è il valore aggiunto anche di altra gente cioè io appunto come dicevamo prima attraverso la giovanità attraverso appunto la voglia anche di muoversi e di correre negli angoli più disparati di questo territorio incontro la società civile cioè più una struttura che incontra la società civile che incontra il mondo imprenditoriale il mondo delle imprese perché io... Con chi riesci ad interfacciarti meglio? Con i giovani in quanto giovane o anche con il resto della società civile? Beh, più che altro è chiaro che i miei coetani i miei coetani mi rimane più semplice naturalmente perché si sentono meglio rappresentati io mi sento come dire... Più uno di loro Sì, più uno di loro perché naturalmente abbiamo la stessa età ma è fisiologico che ci sia questo Dall'altra parte c'è con il mondo delle imprese c'è un ottimo feeling perché fin dall'inizio ho fatto una scelta cioè quello di stare a fianco agli imprenditori questo spesso spaventa i politici molti imprenditori mi dicono ma il politico non mi risponde neanche al telefono perché ha paura, perché ha timore si sentono abbandonati io ho fatto una scelta lo dico a gran voce di stare al loro fianco naturalmente in maniera trasparente in maniera corretta per supportarli, per aiutarli lanciai anche una provocazione dicendo una provocazione che poi non rimarrà tale perché per me questo è un progetto da realizzare secondo me la prossima segreteria del consigliere regionale deve nascere all'interno di un nucleo industriale per far vedere proprio la vicinanza che ha il politico cioè se tu ce la farai aprirai una tua segreteria politica nel consesso di un complesso industriale di un nucleo industriale beh è una novità sicuramente è una novità ed è anche un segno tangibile di vicinanza al mondo del lavoro sì perché se non diamo una mano agli imprenditori il tessuto economico di questa provincia è dei piccoli imprenditori non è piccoli artigiani se non abbiamo il coraggio appunto di stare a fianco a loro ed è per questo che Luciano D'Alfonso ha la mia piena stima come candidato presidente che lui questo concetto lo ribadisce sempre e ci vuole anche coraggio per dire queste cose per fare queste cose due domande legate a Luciano D'Alfonso perché stavo per chiederti fra le cose che sento dire e Matteo Renzi c'è un certo Luciano D'Alfonso che è un po' il trade union tra l'Abruzzo che potrebbe essere di centro-sinistra e il governo centrale di Matteo Renzi ed è una domanda l'altra è legata proprio al mondo del lavoro perché provo a chiederti se hai già deciso eventualmente o non lo dici per questioni scaramantiche dove dovrebbe essere la location di questo consigliere regionale futuro la location non la dico perché naturalmente adesso stando qui sembrerebbe come dire io devo chiedertela però è chiaro che a parte abito a due passi naturalmente la penso in Val Vibrata la penso in Val Vibrata perché la Val Vibrata naturalmente era la valle dell'Eden era sopra è stata la valle dell'Eden penso che non è ancora deserto dei Tartari quindi di conseguenza sono d'accordo con te penso che possa rinascere ci vuole una strategia ci vuole la capacità di affiancare le realtà che sono in sofferenza in questo territorio bisogna far capire a queste realtà che bisogna fare squadra fare rete un po' come abbiamo fatto noi in politica si può fare una similitudine così con le imprese locali bisogna far sì che ci sia una sorta di fratellanza in questo territorio tra le varie realtà per permettere a queste realtà di andare fuori da questo mercato è il discorso di molti io non so se è solo un berparlare e poi si rende quasi impossibile metterlo in pratica oppure non c'è proprio questa mentalità e allora deve cambiare la mentalità perché noi lamentiamo da operatori della comunicazione proprio la mancanza di queste qualità c'è un progetto che stiamo portando avanti è che noi come gruppo oltre al fatto di avere dei quadri politici adesso uso un termine se vogliamo atalico però che rende l'idea abbiamo delle figure professionali dentro che sono anche delle figure che hanno dei ruoli importantissimi a livello nazionale c'è un amico appunto che sta studiando una ricetta per questo territorio ma non le solite chiacchiere perché noi a Campi oltre al fatto di aver fatto quell'investimento insieme noi investimento politico lui economico con il dottor Petrella abbiamo avuto altre operazioni abbiamo portato a segno altre operazioni sul territorio sulle fonti di energie alternative dove ha permesso opere di urbanizzazione una crescita anche occupazionale e delle piccole imprese locali che grazie a questo indotto oggi continuano a lavorare e tante altre operazioni come la progettazione europea abbiamo vinto quattro progetti europei partecipato e vinto quattro progetti europei sul turismo religioso quindi quel modello che a livello comunale noi abbiamo come dire portato avanti quel modello che come gruppo giovane all'Iro Provinciale abbiamo portato avanti è il modello che va vuoi ampliare va proposto e va ampliato su questa vallata naturalmente secondo me bisogna creare appunto dei consorsi dei consorsi mettere insieme le imprese locali un po' come fanno nel campo dell'edilizia dove hanno capito che soltanto facendo lì vabbè fanno leate associazioni temporanee di imprese qualche volta per avere maggior forza perché il problema che abbiamo oggi sul mercato globale lo sanno bene gli imprenditori del settore tessile della zona è che spesso ci sono commissioni di 50 100 milioni di euro e noi non abbiamo un target un brand capace di poter accedere a tali richieste quindi ci vuole consorziando sarebbe meno difficile sarebbe meno difficile io lo vedo io sono anche uno che commercia nel mondo dei tartufi il tartufo oggi non ha subito neanche un momento di crisi anzi è in crescita perché ha un respiro globale cioè in realtà tutto ciò che ha un'economia globale vede una crescita più che una decrescita quindi di conseguenza questo ci fa capire che bisogna avere la capacità di poter avere contatti con ogni angolo del globo e quindi su questa è la sfida futura che ha questo territorio mi diceva un amico che appunto sta nel settore agroalimentare in Cina dice il problema del mercato italiano che non arriva in Cina in qualsiasi settore è perché gli italiani vengono fanno la fiera fanno il loro stand le delegazioni di politici di tecnici che vengono qui una settimana e tornano nel loro territorio i francesi invece qui aprono le sedi e per la cultura cinese o hai il luogo fisico dove andare è il punto di riferimento oppure tu col bigliettino da visita o con le fiere non entrerai mai in quel mercato economico quindi è questo che dobbiamo capire dobbiamo approfondire questi aspetti senza dimenticare che nel bilancio regionale la voce sanità insomma è quasi la voce di bilancio l'80% dei costi passano per la sanità c'è anche un altro aspetto certo però il vostro leader Luciano D'Alfonso non manca occasione per porre l'accento proprio sulla voce sanità e non la critica tanto né a livello qualitativo né a livello quantitativo la critica molto a livello organizzativo ed è a livello organizzativo che io creda si possa sicuramente procedere anche parlando di lavoro sia alla cooperazione ma la cooperazione è anche organizzazione e l'organizzazione è anche progettualità non ti sembrano discorsi molto importanti tali da farli recepire in così poco tempo alle utenze in questo caso agli elettori? è chiaro che parto appunto dal primo ragionamento fatto cioè quello che la voce di bilancio sulla sanità assorbe quasi tutto il bilancio regionale lo sappiamo tutti ma c'è un altro aspetto che mi permetto di dire è stato inutilizzato da questa giunta regionale che sono quelli dei fondi europei oggi siamo una delle ultime regioni in Europa per appunto aver utilizzato fondi europei in maniera scarsa o quasi nulla per incapacità di produrre bandi progettualità progettualità sì e quindi questo va detto va sottolineato quindi lì c'è la possibilità di crescere e di avere notevoli risorse e questo lo dici anche in forza delle tue esperienze di assessore al comune di Campri dove hai pescato invece in più di una circostanza dai fondi europei sono riuscito a fare tante cose spese zero per il comune di Campri grazie alla capacità di accedere a questi bandi e poi di ottenere anche i risultati positivi grazie alle capacità molte volte è un tecnico in grado di valutare queste cose quindi se un ente non riesce a dotarsi di una figura professionale in grado di poter fare l'Emilia Romagna facciamo l'esempio e portiamo l'Emilia come regione leader ma voglio dire non è che ci vuole scusami il termine una scienza per organizzarsi e fare queste cose vuol dire che siamo in mano ad una classe politica che nella globalità è scarsa sì ma infatti io riporto un esempio il mio professore universitario dice prima di pensare alle patologie difficili pensa a quelle semplici perché tutti che patologie ha questo soggetto tutti si scervellavano a pensare alle cose più assurde in realtà poi erano le cose più semplici questo vale anche in politica cioè spesso uno pensa alle macro operazioni cioè alle cose più bizzarre e poi spesso uno non pensa che le cose semplici poi sono anche quelle più risolutive questo è un esempio cioè formare un gruppo di persone uno staff come ha fatto l'Emilia Romagna noi dobbiamo semplicemente copiare quello che è stato fatto in altre regioni non è reato e non è neanche peccato appunto si tratta di essere umili e intelligenti dotarsi di umiltà e intelligenza sono d'accordo quindi quello che ha fatto l'Emilia Romagna che ha formato uno staff di tecnici tra l'altro giovani figure quindi avendo anche una proiezione nel futuro di queste persone che ha formato gli ha dato la possibilità di utilizzare quasi il 100% dei fondi europei quindi è la regione leader come diciamo perché ha investito ha investito su qualcosa sulle professionalità sulle progettualità e oggi quello naturalmente ha il suo tornaconto per quella regione quindi sono stati lungimiranti che poi dicono che non è che necessiti di grandi scienze il professionista che va a leggersi i bandi europei mi dicono io non ho questa qualità mi dispiace bisogna poi capire l'applicabilità sul territorio è chiaro che una regione come l'Emilia Romagna è diversa nelle sue peculiarità nelle sue particolarità alla regione Abruzzo così come la regione Abruzzo ha delle diversità rispetto alla regione Sicilia quindi poi si tratta anche di avere tecnici e politici competenti che sanno poi cucire un vestito sul territorio tu riesci a spiegare come lo cuci o come lo vorresti cucire questo vestito quando incontri la gente che invidi a votarti sì innanzitutto molti oggi lamentano a me piace molto ascoltare perché poi io questo lo reputo il più bel master di vita che uno non può fare cioè quello di ascoltare la gente che non viene più ascoltata oggi quello che lamentano io non riesco a parlare con nessuno non sono ascoltato non sono consigliato questo vuol dire sacrificio vuol dire sacrificio vuol dire avere file chilometriche di gente anche la domenica a casa anche la domenica a casa o in questo la vecchia politica insegna la vecchia fra virgolette la prima repubblica insegna grandi personaggi politici che l'Abruzzo ha pure vantato lavoravano sette giorni su sette domenica inclusa inaugurando l'apertura degli uffici delle loro segreterie politiche anche alle sei di mattina le ho vissute queste cose da professionista della comunicazione professionista detto fra virgolette ho visto politici di altro livello e di altro stampo colloquiare con la gente alle sei di mattina sì ma infatti della vecchia politica ci sono degli aspetti positivi e della gente stessa se uno la sta ad ascoltare che evidenzia quelle positività del passato e ci sono cose negative che uno deve comunque conoscere per evitare di ripercorrere gli stessi errori quindi uno dal passato non può cancellare tutto cancellare tutto o demolire tutto cioè io penso che va fatta in maniera umile oggi con molta razionalità visti i tempi un'analisi sia per quelli che non la pensano come noi che militano negli altri partiti dal 5 stelle al nuovo centrodestra a Forza Italia a tutti gli altri partiti cioè con molta attenzione valutare ciò che di buono hanno gli altri partiti no? e farli propri e dall'altra parte analizzare bene ciò che in passato c'è stato cioè conoscere la storia dei territori conoscere la storia della gente vuol dire rappresentare meglio e al meglio quel territorio e quella gente cioè se uno non conosce nulla del luogo dove vive o delle attitudini o delle inclinazioni che quel territorio ha o che quei soggetti che poi sono rappresentativi in quei territori hanno cioè come fai a rappresentarli? questo non lo riesco a capire certo questo è sacrificio questo vuol dire correre dalla mattina alla sera in giro per il territorio e non fare solo questo cioè che altrimenti poi uno si perde soltanto in un votificio diciamo nel cercare di inseguire un votificio ma insieme a questo cercare di fare la crasi tra appunto questo e le competenze e il momento in cui uno si ferma appunto a studiare a riflettere e a trovare le soluzioni migliori Santro Mariani da grande farà politica io ho avviato anche qui una strategia ben precisa perché quando fui eletto consigliere d'amministrazione all'università una volta eletto assessore a Campli in tutte e due le cariche primo degli eletti mi dimisi da consigliere d'amministrazione all'università per fare spazio ad un amico che ha avuto la possibilità di crescere oggi anche lui è una persona formata capace di fare politica sul territorio l'abbiamo fatto con altre figure a Campli non mi ricandiderò sosterrò un amico quindi di conseguenza anche qui c'è un passaggio di testimone per una crescita in un gruppo e quasi sicuramente non mi ricandiderò le prossime regionali ma candiderò un amico quindi non farai sicuramente politica attiva da grande no sarò in questo gruppo in questa squadra e questa è la fase che ti permetterà magari di scendere in campo direttamente voglio dire sì sì direttamente e magari resterà in politica una vita intera ma non necessariamente con degli incarichi no dico la fase che più mi ha entusiasmato in questi dieci anni di politica è stata quella con Gabriele Minosse dove appunto con l'attuale segretario provinciale del Partito Democratico che è stato scelto appunto da questo gruppo di giovani abbiamo corso tutti credendo appunto che quel progetto che avevamo iniziato nel 2008 con Sandro Mariani potesse oggi appunto prendere forma con Gabriele Minosse e così è stato c'è stato un grande entusiasmo una grande voglia di riscatto anche buono e quindi di conseguenza questo è stato il vero motore che poi ha portato alla vittoria di Gabriele Minosse e mi sono divertito questo nel senso buono del termine nel senso buono del termine mi sono divertito sono statamente ho avuto una sorta di serenità dentro di me perché mi piace più correre per gli altri che per me stesso è chiaro che in questa fase visto il percorso che ho fatto sai queste cose normalmente competono ai leader cioè rappresentare quel che di buono si riesce a fare anche con terze persone con terze figure normalmente sono competenze che vanno ad un leader in cui tu ti ci senti un po' o tendi ad esserlo sei giovane però io penso di essere stato fortunato nell'aver a fianco degli amici competenti leali qualcuno altrimenti si è perso lungo la strada perché è naturale che è fisiologico però io penso di essere un uomo fortunato nell'avere una famiglia che mi sostiene degli amici che mi sono stati a fianco con delle competenze notevoli e quindi penso appunto di aver avuto una serie di situazioni che mi hanno permesso poi insieme alla determinazione che fa parte di me alla costanza nel lavorare in maniera metodico mi hanno permesso poi di raggiungere questi obiettivi però c'è un aspetto che voglio sottolineare che mi ha fatto riflettere nella mia vita quando ho perso contro Verrocchio noi contro Robert Verrocchio nel 2008 noi andammo al partito a dare la mano a Robert Verrocchio e lì naturalmente dopo tanta adrenalina in un mese di campagna elettorale su tutta la provincia 27 anni quindi una giovane età non è semplice governare le proprie emozioni a quell'età non è semplice governare le emozioni gli amici a fianco mi presero mi stavessero dobbiamo andare al partito a dare la mano al nostro segretario quindi lì anche la squadra lì capì che la squadra era fondamentale che il percorso che stavano facendo era quello vincente che ci ha portato poi ad eleggere Gabriele Minossi lo ripeto e oggi a far sì che Sandro Mariani è candidato in Regione ma in realtà non sono candidato io ma è candidato questo gruppo di giovani ancora una annotazione Tommaso Ginobel secondo te più di altri ha compreso questo progetto? Tommaso Ginobel più che altro non ha mai contrariamente a quello che pensano molti non ha mai condizionato o detto quello che bisognava fare forse perché apprezza quello che stai facendo sicuramente sì ha sempre ma anche Claudio Cuffini anche altri soggetti insomma dentro il partito che hanno riconosciuto il gran lavoro fatto quello che stiamo facendo su Teramo otto candidati della lista del PD Comune di Pasquale sono espressioni di questo gruppo parte dei candidati della lista civica sono espressioni di questo gruppo di amici che coltiva questo progetto quindi questo viene riconosciuto oggi da tutto il partito quello che che invito a fare oggi nel mio partito fare una riflessione profonda nell'evitare appunto queste guerre tra bande con le etichette che ci hanno poi logorato che è quello che il PDL che accompagnano voi tutti ancora sì sì ci siamo partiti in questa chiacchierata parlando di un partito democratico sì sì ancora troppo diversificato al contrario è quello che sta facendo oggi al PDL beh in una maniera addirittura più eclatante direi tra Gazziani e Tangretiani i Tangretiani oggi la guerra alla luce di queste considerazioni però sentirti dire queste cose credo ti renda giustamente onore perché se bisogna fare squadra bisogna farla dall'inizio alla fine e quindi fino in fondo su questo credo che non esistano dubbi deve essere così tra l'altro sono rimasto colpito da un aspetto che appena eletto vice segretario c'erano i gruppi di persone del partito che non si guardavano che non si parlavano si guardavano in Cagnesco senza capire che dall'altra parte in questi in queste micro sensibilità dentro il partito c'erano delle competenze cioè noi siamo riusciti a dare delle risposte al territorio utilizzando semplicemente coinvolgendo semplicemente soggetti che avevano delle professionalità dentro il mio partito ma quei soggetti che fino a ieri non mi avevano sostenuto in quella mia battaglia elettorale ma quello era un aspetto politico poi l'aspetto di ricostruzione o di crescita di un partito deve coinvolgere prima cosa quelli che ho dentro casa mia dentro il mio partito quindi ho voluto conoscere tutti per capire che cosa facevano qual era il loro know-how che cosa potevano portare a questo territorio e abbiamo fatto la sintesi fra i vari soggetti mettendo le competenze nostre più giovani a servizio di quelle più vecchie insieme sono nati tanti progetti per il territorio in sette comuni della Val Vibrata si voterà credo che siano dei sette comuni tutti e sette oggi governati dal centro-destra i sette per i quali si andrà al voto pronostico quanti comuni potrebbero dovrebbero cambiare governo tutti naturalmente questo negli auspici nella realtà abbiamo due minuti nella realtà magari puoi anche non fare nomi di comuni ma dirmi cosa sottoscriveresti quanti comuni sottoscriveresti che cambiassero governo io più che parlare degli altri parlerei di un solo comune che è quello di Corropoli dove c'è la sfida del Partito Democratico appunto per tornare al discorso di prima sono un combattente quindi quando uno si definisce un combattente deve affrontare le sfide difficili quindi punti su Corropoli su Corropoli dove qualcuno addirittura ci dava fuori gioco in realtà stiamo lavorando come gruppo anche noi su quel comune qualcosina mi risulta giornalisticamente ma insomma aspetto stiamo lavorando sono convinto che poi quando c'è la determinazione c'è la voglia di fare c'è un gruppo che lavora in maniera compatta possono arrivare anche le sorprese insomma Corropoli ti soddisferebbe più di ogni altro questo posso dirlo? sì in bocca al lupo anche perché avremo la possibilità di ritrovarci nel prossimo futuro soprattutto nella cosiddetta benedetta maledetta parcondicio che contraddistinguerà una comunicazione super ingessata negli ultimi 30 giorni prima del voto buon lavoro ovviamente grazie per essere stato nostro ospite e 45 giri con precisione cronometrica si riproporrà con una nuova edizione domani grazie e buon proseguimento di giornata